ciao ragazzi ciao buongiorno siamo tornati dal dottor il ragazzo è direi messo tutto bene allora 3 ce l'ha di braccio di braccio secondo me allora oggi siccome i due video che abbiamo fatto vi abbiamo fatto vedere gli sono piaciuti perché il dottore è molto bravo oggi abbiamo deciso di farvi vedere un'altra parte del diciamo trattamento esatto oggi per quanto mi riguarda andremo a vedere di sbloccare un po la mia zona la bestia nera esatto bestia nera di barbara c'era la zona lombare lui invece è un bloccamento della sera ma ha un piccolo problemino qua ok quindi qua siamo sulle piccole di lo hai sforzato parecchio si ho fatto l'altro giorno ho fatto un braccio destro braccio di fermo no abbiamo fatto un allenamento un po particolare dei bicipiti infatti gonfio non so se hai riuscito a vederlo ma è un po gonfiatto quindi qua c'è stato un trauma max è colpa tua dopo vi farò vedere due tecniche che si possono fare a portare subito ma è la bassa schiena scusa però un po quello a prescindere già lo sapevo ma lì visto che c'è un problema sicuramente qua c'è un po di liquidino perché c'è un po di gonfiore quando non fare magari un elettromedicale in modo tale da disinfiammarlo e poi andrò con la fibrolisi proprio sottiene che meraviglioso che perché è una godura bellissima della legia mi fa male non vedo l'ora e la fibrolisi di annaficazza va bene iniziamo 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 sono pronti siamo pronti iniziamo allora andiamo un attimino a valutare la cervicale di barbara dolore c'è qualcosina da sistemare a mettere a posto abbiamo il trapezio ho appena detto che dalla volta scorsa non avevo più problemi al collo e invece gabry esatto anche lo sternocleido ora che bello che si vede tutto mamma mia allora c'è l'infiammazione un po generale allora andiamo a pancia in su con la testa lì ok aspetta a vedere che l'altra volta ha mai cazziato che devo mettere tutta strada o che quando mi dà la soddisfazione che si riguarda l'agono anch'io ok allora io eccoci qua super rilassata guarda che palline madonna senti che sono delle palline veramente strong siamo a questa altezza può e ricano veramente fastidio e dolore la sinistra tremenda qua tantissima adesso piano piano andiamo a sciogliere prima così così abbiamo confidenza ma cos'è è questa prima bella contratturina ok mamma tantissima eccolo qui allora rilassiamoci ti aiuta anche a respirare col biaframma dal naso coltando l'addome apre la bocca e butto fuori insieme a rilassarci molto molto bene ok ok allora iniziamo è attaccata si muove i piedi si muove si muove i piedi muove li muove tu perfetto bravissimo stai con me brava morbida bravissimo mamma che sciocco ok vediamo queste manure qua che alzano tanti pesi e guarda questo di giro che mi ha rotto la rotto non è rotto no si chiama artrosi grazie mamma e grazie mamma è una cosa che è subito subito arriva è un paio d'annici mi fa male la mano si è un altro di una deformazione dell'ossa mannaggia sembra tipo una rottura si sembra una rottura ma che non è staculata invece qua purtroppo no no ma lo evidenzi in altre parti anche di là sul lato destro no sul lato destro quindi da questo lato qui tu hai delle perite di forza rispetto all'altro braccio su questo no anche perchè siete da sto davanti tu solo che adesso qualche giorno che mi sia staccato ancora in più mi da fastidio perchè mi prende l'altro dito cioè che si mi cassa ancora in più eh si eh 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 esatto rompe un po' le scatole abbiamo attenzione volendo allucinare oh respiriamo buttano fuori bravissimo ancora si attenua? si ottimo ovviamente alzando molti pesi il lavombraccio è molto sollecitato e quindi reca molto stress adesso dobbiamo fare un po' questo percorso non fare da alleggerire no 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 tutto un dolore ma che è? eh sì quando si tocca nei punti giusti così esatto qui ci sono gli estensori eh poverino ok e poi dovrai vedere i flessori perché anche qua hai messo questo parte eh buonanotte qui se non mi hai salto per quasi a tenare eh che punto esatto però se abbiniamo la respirazione piano piano si allevia il fastidio bravissimo ottimo bravo e diventiamo avanti la comandiamo tutto passa da qui bravissimo senti il braccio caldo? si vediamo la parte ok per giochino bene vediamo poco di pannarsi guarda quando si hanno i muscoli è così eh si non dovevi avere tutti questi muscoli è colpa mia qua questi muscoli bravissima, respira bravissima bravissima il punto lì è tremendo qui meno la tensione l'hai nato cosa c'è? basta andare a te vedete questo che poi Alberto soffrirà per l'epicondilo vedrai che non vedete esatto dove passa l'epicondilo Alberto soffrirà tantissimo ti diverti ocio che magari mi parte la mano da sola quello è un problema mio dopo sono problemi tuoi è un cerfone è un problema mio più bello smette fuori ah ok benissimo molto molto bene dai abbiamo ancora tre trigger da fare bravissima, respira e buttiamo fuori come senti le braccia? bello calde calde leggera belle calde bene 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 adesso arriviamo al punto ci piace ci teniamo qua non riesco per quel che sapesse come non riesci di solito bisognerebbe guare c'è un brocchettino ok che gambe ragazzi insomma direi che ci sono le fate oggi mannaggia l'onore è tuo ho detto così poi mi sblocca madonna allora adesso è solo questione di leve tecnica questione di fit oh oddio vuotiamo leggermente hai già fastidio? eh ok bravissimo lascia muoviti 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 prendi aria fuori tutto oh wow hai sentito ok respiriamo un attimo che poi andiamo di là eh bene bene più di qua così abitiamo bene e adesso cambiamo cambiamo così ok fai avere la balla un giocatore in casa non sta a morire rimani morbida bene dove vai cado non cado c'è un lettino non possibile cadere ci sono io cerca di non avere bilanciata ok brava wow morbida lo so c'è una tensione allucinante prendi aria buttiamo fuori oh madonna 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 si è sentito un po' di rumore c'è una tensione che è vista andiamo a pancia in su dai forza sono bloccati subito adesso esatto adesso dovremmo fare due manovre allucinanti oh giù le braccia allora guardate qua ragazzi guardate i malleoli se si vede questa è più corta questa è più lunga ok quindi il suo sistematico eh lo so il problema è che è un atteggiamento questo lo è perché è un atteggiamento posturale ok ok hai fatto le gambe tra l'altro eh sì lascia morbida nestra bravo lascia la mano oh madonna mia bravo bravo dai lascia morbida lascia lascia dio mio ma è bello adesso aiuto moro paura aggancio si stacca la gamba abbastanza oddio madonna se tu vieni qua questo 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 c'è presa si 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 mi sto sudando mi sto sudando è un calorifero è un calorifero è un calorifero io non ho bisogno del rischio da me tu metti il medici anche meno male che fa stretching ma meno male ma meno male meno male vediamo un attimo non godere bacino tienite l'ettino respira il grefannino bellissimo non cadi non cadi un attimino un attimino slegare perché è veramente tipo un nodo tipo un nodo è un nodo famosissimo un attimino slegare respira brava 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 non provate non provate non provate perché fa male allora in questi casi bisogna un attimino andare a lavorare veramente in forzatura perché hai due cose di marmo dietro e adesso mi dico un attimino di qui almeno è di macchia è più in grazia rigida ok senti bene giù bravissimo respira brava vedi che si lascia andare brava fuori bravissimo wow adesso ti ripieni un attimo poi viene sul fianco verso di me adesso devi essere super leggero e proprio di gomma e c'è proprio di gomma vieni un po' più vicino adesso ok fermate ok rilassati un attimino rilassati un attimino bravo ok prendete adesso i vomiti ok senza forza se no io non devo non ci arrivo ok oh che brava così 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 è perfetto così vi piace bravissimo così è bello prendi aria adesso e butta fuori tutto ok ok va bene va bene oggi non mi allena che oggi non vado ad allenare è un bel allenamento anche questo andiamo di qua un conto è trattare uno senza muscoli esatto un conto è trattare i muscoli è trattare i muscoli viene più vicino verso di me ok bravissimo adesso ti sistemo io per le feste allora ecco qua questo qua non so cerca di essere più morbida possibile buona avanti a c bravissima vado io non stringere fuori non ci arrivi ok guardarvi lascio qua morbidissimo adesso ancora prendere fuori ok bene 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 non so è un'apertura ansa su tranquilla e rilassata mattina mamma ragazzi tremenda sì tremenda sì allora sì poi io quando avrete buonare che mi inglobano tutta la colonna quindi è tutta legata capite bisogna giocarci un attimino tipo questo esercizio qua iniziamo a tirare un po' le gambe per andare un attimino da leggeri la colonna l'ombare perché sai benissimo che le gambe comandano la schiena però vedete lei intanto spaccata ragazzi cioè eh sì fa anche la spaccata cioè quindi anche funzionano bene nessuno di quindi adesso vi dovremo fare un bel lavoro sulla lombare proprio per ossigenare i tessuti perché tu gli soffri parecchio i tessuti diventano sempre meno ricchi di sale e c'è una corda esatto però non tu guarda più forte questa qua destra eh vero sì allora adesso per trattarti a mettere le coppette sulla zona lombare perché sei tu non devo a terra di fianco o sul fianco ok su che fianco preferisci stare? qua lo decidi tu qua meglio di qua meglio ok perfetto però ci vedi ci senti ci vedi qua è ben differente è tutto umano va bene è una questione di comodità che sono ok vuoi farci letto aspetta cos'è un nuovo tipo di di trattamento eh no ho chiamato il premurio il tremurio allora c'è lei guarda ti metto anche questo sotto per essere più comoda fai tu decidi tu dove? qua ok bene guarda ti dico un po' su anche qua così così va bene qualità comodissima adesso alziamo un po' qua allora io mi metto di qua scusate esatto allora noi adesso andiamo a lavorare un attimino su questa parte lombo sacro ok allora filo d'olio alla camomilla così ci rilassiamo un po' come bello caldo subito subito qualità ma è lei che sprigiona calore no no è l'olio l'olio qua è pazzesco è l'olio tra l'altro me l'hanno dato da provare subito bollente subito bollente fredibile azione caspita immediata camomilla tipo il balsamo di tigre sì esatto leggermente proprio bassi così ok allora iniziamo così male c'è fuoco proprio respiro bravissimo cioè ragazzi non ci credete ma c'è il sacro che è caldo vero è sacro è lo senti caldo? no ma io sento caldo unico è micidale io sono una stufa è una stufa? quando dico che io ho problemi di caldo quando fa caldo non mi crede ma io soffro con le bollette che rion adesso è buono io sono sempre inutante è meglio così così almeno c'è un po' di risparmio una donna si va bene dai va bene si si va bene alla grande direi allora qua andiamo anche contro la forza di gravità tra l'altro si e io non posso stare sulla pancia esatto e allora dobbiamo avere modi alternativi ok e adesso lo lasciamo cuocere un po' questo è il capping lo usiamo come recovery in questo caso andiamo a scolare i tessuti aumentiamo la vascolarizzazione sanguigna e aumenta bene 400 volte di più rispetto alla normalità ok? questo trattamento è molto utile quando si hanno delle contratture profonde oppure si è rigidi power ok e quindi andando a mettere le coppette sugli elettori della colonna andremo a far sì che i muscoli si rilascino ok il sangue permette di ossigenare tutti gli strati ok fino ad arrivare in superficie e porta in superficie questo rossore chiamato comunque l'infiammazione muscolare poi ogni coppetta se avrà un colore diverso in base alla zona che è più o meno infiammata ok questo trattamento si può fare ma intanto lo possono fare tutti non solo gli sportivi ok come nel caso di Barbara ma lo possono fare anche tutte le persone che hanno comunque dolore alla schiena anche se sono sedentari quindi lo consiglio vivamente a tutti soprattutto a chi fa sport perché comunque chi fa sport i muscoli lavorano di più si infiammano di più e quindi devono essere curati di più c'è tutto un più giusto? e quindi Barbara direi che è un più più ma class 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 ok esatto lei sente addirittura pizzicare ecco il pizzicore è dettato proprio dal grado di infiammazione ok che pizzica di brutto sì bene dovremmo lasciare Barbara circa un giorno così con il capito dovunque ovunque esatto esatto c'è una forma di campana esatto una campanella una volta lo usavano in vetro col fuoco ma siccome non vogliamo prendere fuoco sì sì quello col fuoco l'ho visto esatto sì 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 lo fanno ancora tutt'ora però io preferisco la pompa così regolo il tiraggio della coppetta sì sì assolutamente come va Barbie ti rilassano questi sì sì ti rilassano sì sì esatto sento che tira di bestia cosa che l'altra volta non senti no molto meno molto meno e qui io troverei la zona lombarda quando ero ragazzino che non la trovavo sì me la porto dietro da lì e tra l'altro per chi fa equitazione soprattutto sulla colonna si hanno delle selle citazioni proprio paurosi le altre brestie lasciate io ho fatto vabbè c'è 5 e 6 e 1 eh sì perché invece sono saldati insieme per quello che poi ho i doveri è certo che poi arrivano la cosiddetta lombosciatalgia troverò tutta questa parte qua quando buttavo al cavallo avevo estremamente il nervosciatico infiammato infiammato salivo al cavallo mi scaldavo mi passava però ero una ragazzina il problema è che quando poi scende dal cavallo è un dolore della mamma un dolore esatto quindi per quello io do degli esercizi specifici poi per la problematica sempre in essere dopo il trattamento perché il protocollo in sé serve per il mantenimento della terapia e nel suo caso di Barbara oltre che c'è un'elasticità già muscolare di suo perché ovviamente un atleta sa benissimo che dopo un esercizio di attività sportiva deve fare stretching ok? quindi già di per sé è allungata però qui c'è un problema di base infatti l'ha appena detto lei c'è uno scherciamento delle vertebre le ultime due le 5 e 6 e 1 e quindi ha poca mobilità perché le vertebre deve avere la propria mobilità articolare e qua non c'è quindi di conseguenza bisogna stare recare maggiore attenzione nei movimenti e anche durante gli esercizi tutta l'età sarebbe fatto come l'età l'età incide ovviamente sentirsi disidratano in ogni caso quindi sicuramente se andassimo a fare una risonanza magnetica in questa zona cosa che ha fatto Barbara tanto tempo fa comunque le consiglio comunque di fare magari una revisione in modo tale da tenere sotto controllo perché non sottovalutate mai cioè l'esame strumentale è fatto apposta per indagare se ogni tanto vi si blocca la schiena due volte all'anno non è una cosa normale ok? quindi c'è un problema dietro uno magari capisco che magari ha anche paura nel caso a fare un esame perché magari scopre delle problematiche che non vuole neanche sapere però è importante farli ok? per poi andare da dei professionisti per rimettersi in sesto ok? e affidatevi sempre a persone che sanno quello che fanno ok? che molti si improvvisano che se no è peggio che non fanno esatto molti si improvvisano sì bene wow bel colore tra l'altro come i pantaloni eh bravo vanno in pandan con il pantalone eccola lì è lavorato deve essere tranquillo l'indiretta è una coppetta è saltata e la metà c'è rigidità regolata eh non vuole stare niente teniamo un attimino il mio corpo si rivella in diretta è tutto più bello bene è bello la diretta eh sì esatto ma io non mi sono mai bloccato con la schifra non mi sono mai sì sì io ho sempre questa tensione fortissima costante ma bloccarmi mai ok ebbè questa è già fortuna anzi lo so che adesso dico una cosa che la gente dirà che sono pazza sì io tendenzialmente quando ho molto mal di schiena più mi alleno più mi passo sì faccio le gambe pesanti e ti passo la schiena perché probabilmente di sangue esatto arriva esatto bravissima infatti la cosa che io dico sempre di fare quando si ha un malessere comunque generale oppure localizzato il movimento è la prima cosa che devi fare perché se tu muovi i muscoli apporti maggior quantitativo di sangue e comunque vai a ossigenare anche quella parte che ha un problema certo e poi la cosa che sto consigliando a tutti i miei pazienti è quella di sdraiarsi su una superficie rigida o semirigida quindi anche per terra va benissimo non dovete andare a caporza contro un rettino aprite le braccia e respirate con il diaframma ok così è andato ad allentare tutte le tensioni del corpo ok se soffritti di cervicale di dorsale oppure lombosciotergia lombare eccetera è andato ad allentare tutto il corpo perché come dico sempre il diaframma è un muscolo molto importante che comanda tutte le catene del corpo perché è il punto di incontro di tutte ok quindi se noi andiamo ad allentare e respirare con il diaframma di conseguenza andremo ad allentare anche quella tensione che porta un fastidio o un dolore ok quindi questa è una piccola chicca che potete fare tutti ok e ovunque voi siate perché comunque un pavimento penso ci sia ovunque esatto non fatelo a letto mi raccomando ok assolutamente no esatto e che si sprofondi togliamoli esatto deve essere semi rigido ok mai sprofondare perché andiamo proprio aumentare il fastidio e il dolore perché andiamo a assumere posizioni veramente devastate è vero bene infatti Barbara come io ho consigliato l'altra volta lei dormirà ovviamente o a pancia in su giusto e se dormi a pancia in su deve mettere un cuscino sotto il cavo del video ok in modo tale da arrecare uno scarico totale alla colonna oppure se quella volta voglia di dormire sul fianco mettiamo un cuscino tra le gambe ok in modo tale da scaricare il sacro e da avere in asse tutte e due le anche ok quindi questo qua è accorgimenti che potete fare anche voi a casa se soffrite di mal di schiera e mi raccomando non dormite con mille cuscine sotto la cervicale perché se no siete seduti ma bensì se soffro di cervicalgia e ho un problema alla cervicale e soffro di vertigini allora sì che va bene dormire con un cuscino più alto o due cuscini un po' più bassi in modo tale da avere una postura migliore ma se state bene con la cervicale dormite solo con un cuscino e basta ok quindi Barbie se dobbia pancia in su mi raccomando cuscino qua sì sì per forza ma io a pancia in su sulla schiena mai dormo sempre su un fianco anche perché a pancia in giù ma neanche prima è proprio una roba che non fa parte del mio modo di dormire sì perché non è non va bene perché se dormiamo a pancia non devo schiacciare tutti gli ordini e quindi assolutamente non va bene a pancia in subito ma alla schiena perché comunque la mia curvatura alla schiena mi si infiamma quindi sono sempre stata abituato a dormire sul fianco del resto sinistra adesso però che cosa adesso obbligatoriamente ti sei obbligata ti sei obbligata allora andiamo a vedere un attimino questo colore ragazzi che si avvicina al pantalone ma veramente non è uno scherzo infatti adesso le andremo a togliere e andremo a scoprire un attimino le parti che sono più infiammate e quelle meno infiammate ok e tra l'altro guardate anche la condensa che si crea cioè l'ho tolta guardate la condensa cioè proprio viene estrapolata tutta e tra l'altro Barbie è anche abbronzata se non è stato quello ok guardate questa quant'è bella scura questa deve essere questa è un po' la scuretta anche questa ok quindi vabbè qua possiamo capire che lei soffre tantissimo nella bassa schiena lombosacrale infatti queste due e soprattutto qui a destra infatti il punto che le ho toccato prima sulla colonna che è questo lei soffre ok quindi qui abbiamo un punto dolente adesso cerchiamo di andare sempre con la coppetta molta dinamica da richiamare sangue così andiamo ad ossigenare veramente bene questa parte che sta soffrendo vediamo questa quella vediamo un po' di coglius vi saluto Dennis che stamattina è venuto qua anche lui ma è farsi trattare si che domenica alla gara si infatti non la stava dicendo ieri sera si è veramente aperto scusate l'internet si è bello 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 tosto è bello conciato via esatto infatti poi quando c'era il video vedrete in generale il conciato nel senso è provatissimo è provatissimo alla fine e da quest'estate che non si riconosce normale infatti dopo domenica lui è diretto adesso questo è forse il momento beh lo sapete è tremendo poi è una gara dietro l'altro è assurdo perché non hai tempo di rilassare il corpo si ribella esatto io volevo sapere la vostra esperienza proprio io non ho mai fatto tante gare dietro l'altro perché è in questo motivo al di là che io negli ultimi anni essendo professionista gareggiavo sono negli Stati Uniti quindi era anche difficile non fare una gara dietro l'altro certo però proprio per questo problema del recupero quando si fa una gara io parlo di bodybuilding quindi espermizziamo ancora di più e il corpo ha bisogno di un attimo di pausa perché se no io rischio che la gara successiva si peggiori cioè è difficile migliorare la performance fisica perché già hai dato il 100% e il tuo fisico è a ricorse ma inoltre è debilitato in una maniera pazzesca quindi vuoi consigliare sempre di passi per una sola gara una massima o due per una massima o due perché comunque poi dovrei essere vicini io ho provato a fare un anno a gareggiare ho fatto 5 gare in un anno alla quinta gara mi sono beccato un pocolai al polmone perché ero talmente stressato e al peso ovunque per cui il stress mi sono a palla avevo le azioni cortito alla palla poi mentalmente sei talmente scarico che non riesci più neanche a allenarti capisci non puoi però mi rendo conto che quando un inizia di anche fare ma non va bene di arrivare però bisogna secondo me gestire meglio devi programmare in maniera esatto scegliere quali dare fare e poi puntare a essere fisicamente sempre meglio possibilmente vicinissime al massimo due settimane una dall'altra e poi basta un paio di gare ecco qua ecco che è arrivato quella già lì che sembra come si chiama quello che fibrovisore bici tolse sì barbara carità tolse è il suo gioco è il suo giocchio sembrava mezzaluna esatto però la voglio aiutare barbara e ti do questo qua un attimino grazie bene sì bene bene sì la mezzaluna adesso affetta adesso affetta le cipolle sezioniamo barbara un etto di cotto un etto di crudo però c'è poco grasso e quindi mi sa che qua madonna vai come si diverte il vertu dopo sul braccio madonna e io l'ho fatto bilaterale bilaterale addirittura sì avevo queste piccoli di te bilaterale con il gancio sono entrati da vomito e mettiamo i ganci da vomito però poi dopo risolvi i problemi però poi la promette è questo vuole già quello che abbiamo detto che puzzola scusate ruoto un attimino vi faccio vedere l'aggeggio non guardare non guardare madonna sembra un uncino sì ero in canale da questo chiropratico mi ha fatto questo trattamento mi dice ti farà un po' male però poi stasera tu voglio termine si fa ma io mercoledì c'ho la stricte curva abbiamo la sfida ragazzi come faccio non lo faccio non posso fare ma con te a che ora alle due e allora tanto non c'è nessuno che mi sfida se ti vuoi sfidare no io no io ti guardo mi vuole sfidare mi vuole sfidare dottore io ti sfido al b spot madonna dai dai e che problema tu che sei alto quindi devi fare il doppio del movimento il doppio esatto è una questione di vera eh vabbè ragazzi c'è un po' di managgio lasciate ci vuole ci vuole c'è ragione hai ragione vediamo io se volete vi trovo chi può sfidarsi faccio da pubbliche relazioni vai vai butta dentro vediamo chi è che c'ha il coraggio secondo me la difficoltà sta in quello che fa la Barbara no sì perché i bicipiti meno male infatti così sono pesati vai a isolare è certo alla fine il gomito è fondamentale la posizione su molti dei gomiti qualche bicipo social se sei qua in anteposizione è un altro esercizio certo giriamoci dall'altro lato guarda 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 tutti questi così riesco a andare sull'altra parte e opla piano piano bene bene metti ti comoda prenda il tubo e così abbraccialo un po' di compagnia ci vuole così così vediamo qua ok a me piace vivere sempre sul filo del rosario voglio sfidare tutti io da agonista cioè figurati per me è la mia vita la mia vita vitale avere una sfida qualcosa è motivante e certo comunque la motivazione non importa però la motivazione di dare il meglio di te è piacevole assolutamente sì assolutamente come abbiamo fatto poi come siamo stati un mese fa a fare una prova da Strongwell infatti diretti madonna mai fatto però il bello era proprio quello certo è così una prova se no è troppo facile non è facile per nulla la motivazione è la base di tutto si così è per fatto paradossalmente di quanto ti dà meno fastidio che è quella parte invece ti dà più fastidio ti dà più fastidio ok un po' più vicino è sul bordo guarda ok poi ti mosso un po' di più trasversi trasversi cosa senti cos'è 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 un muscolo enorme cos'è una cosa enorme ma che retturi della colonna vedi se fate i lombari avete queste due colonne c'è il canaretti in mezzo ma si guarda non è diventato bello rosso eh quando andiamo a richiamare sangue per il mio cutanea dobbiamo notare da ossigenare bene questi muscoletti e si dopo dobbiamo acquisire mobilità articolare per forza la forza per il sagittale frontale esatto tutte e due bravissima magari infatti vedete proprio che abbiamo chiamato sangue eh va a frizionarci sopra a frizionarci sopra oh Adesso sto usando questa tecnica perché comunque abbiamo dei muscoli veramente strong e il dito non basta e quindi usare delle nocchie ovviamente mi raccomando se fate questo mai sulla colonna sul muscolo se no fate un male veramente a vicino a te e quindi con le nocchie stai andando io ho visto usare anche il gomito esatto poi solo sul gluteo si può fare esatto poi bisogna sempre modulare la forza perché è importante anche quella non dovete mai essere così tanto aggressivi adesso devo fare una digitopressione morbidissimo adesso verso il sacro e respiriamo adesso sono io che mi devo adattare a lei quindi queste posizioni che sto assumendo per chi mi devo adattare sempre al paziente però io devo sempre adattare barbano anche addormentare è impossibile oggi è impossibile poi se andiamo sulla la cresta iliaca inizia a soffrire da parecchio ok respiriamo barbano che molte volte dicono ho dolore alla schiena e poi non è la schiena è la cresta è la cresta iliaca capito è anche importante distinguere il mal di schiena da un problema che non è la cresta il mio mal di schiena è la cresta il mio mal di schiena è il mio mal di schiena respira dimmi se diminuisce dai benissimo facendo una digitopressione trigger andiamo a richiamare sangue ok e quindi andiamo ad ossigenare la parte interessata bravissima ma che male addirittura la mia impronta la mia impronta è incredibile eh lo so madonna ma cos'è anch'io lì ho male di solito respiriamo dai eh sì allora se spingiamo con squat e spingiamo con stacchi eh lo sento infatti anch'io lì la cresta iliaca sacro lombare lombosacrale è proprio cioè se tracciamo un rettangolo qua è questa qui la parte interessata poi tieni conto che la colonna comunque scarica sul sacro ed è tutta collegata funziona tutta insieme ma è incredibile che rimane la mia impronta c'è un giuro rimane è ancora lì il calco sì il calco rimane è incredibile eh ma lo sento eh lo so il tuo calco esatto e di buono che che piacere esatto se volete rilassarvi questi punti qua sono delicati ma è un dito dentro al muscolo e via e anche la pressione sul sacro benissimo solo con questi due trigger sulla cresta iliaca ha proprio recato un benessere a tutta la parte perché adesso lei piano piano si sta rilassando eh esatto adesso non ha quasi più dolore lei no esatto quindi guardate il mio calco se no vedete dove dovete premere eh madonna abbiamo qua e qua ok quindi questo vi dimostra che stavo spingendo forte non stavo facendo finta ok giusto magari fai finta ma che non mi sento no no aspetta c'è ancora c'è ancora c'è ancora sembra una fossetta guardatela e non mi credono dopo guardate che fosse c'è una fossetta c'è il ok pancia su guardi guarda si sente il pollice guarda è brutto c'è il mio dito io mano ce la facciamo adesso ti vedo anche questo così è giù tranquilla no no sono asciutto anch'io guarda non ti fa piacere? eh bravo mi spiace partire io lo vedevo ora sinceramente lo sai eh intanto vediamo un attimo questo diaframma famosissimo diaframma di Barbara vediamo se sei stata attenta perché è un po' tanto il diaframma? eh adesso sono in pranzo dai adesso la giustichiamo Barbara perché comunque si è concentrata nella respirazione no è concentrata esatto allora Alberto non la faccio questo domanda perché la sta sicura no no non fammi domande che non rispondo no perché adesso sono in uno stato di che non so se esatto allora quando tocchiamo esatto abbiamo toccato dei punti unico e particolari perché il sacro comunque aiuta a rilassare tutta la colonna adesso vado ad agire sul bioframma ok andando ad agire sul bioframma io in corrispettivo vado a lavorare su quella porzione della cerniera dorso-rombare ok perché c'è lo schiacci esatto schiacci esatto andiamo a riportarlo in su la forza di gravità si abbassa ma in corrispettivo lo riportiamo la perpendicolare andiamo anche dietro l'orale ok e poi andrò dall'interno delle tensioni quindi a casa semplicemente chiedo di respirare con il bioframma per arrivare dal naso contro l'addome bravissimo e butto fuori ok bellissimo grazie a tutti ti ha dato fastidio? eh sì ma io ho problemi allo stomaco ernie preve nello stomaco? sì di gastriti gastriti reflussiol gastrico da vent'anni forse ok abbiamo fatto degli esami che definiamo ernie agliatale no io direi posso adesso assomigliare un'ernia agliatale esatto sì perché era tanto una casa no anch'io sono dello stesso parere esatto sicuramente l'ernia agliatale semplicemente è uno scivolamento che va a occludere un passaggio però se è così ovviamente ci sono dei trattamenti che si possono fare nel tuo caso mi verrebbe un po' difficile perché dovrei mettere alcune posizioni poi in caso ti farò vedere come si fa però c'è bisogno di un esamino che lo identifichi ecco però vabbè comunque andando a lavorare sul bioframma comunque richiamo un beneficio anche per quanto riguarda il reflusso gastrico ok? bene vediamo un attimino probabilmente non ti parla di alimentazione perché sei già benissimo cosa devi evitare respira veramente bene il bioframma sì infatti di brutto si vede proprio un bel palloncino eh sì riesce a a espandere tutto bravo si schiacca eh oh non mi comanda e io eseguo bravissimo è anche vero adesso vediamo un attimino su questo vediamo ecco qua almeno un'altra volta mi dava più esatto guardate quanto rientra l'altra volta non riuscivo neanche a entrare guardate l'altra volta non mi faceva male quando mi entrare adesso no vediamo questo perché ha fatto esercizi di stretching abbinando la respirazione deframmatica ma sembra che ti entri spariscono le dita esatto bravissimo senti l'ultimo pezzettino di brutto esatto eccolo qua questo qua l'ultimo pezzetto è un po' più basso bravissimo ok bravo è rientrato non c'è più questo l'ultimo pezzettino invece andiamo dall'altra parte andiamo a vedere l'altro emisfero bene bene oh dì tanta roba ho girato in davanti sforza qua ora è più dolore già qua mi respinge un attimino si andiamo esatto subito dolore smalcia di dolore quando qua già entravo già anche vedi a riposo riesco qua dolore quindi questo cosa vuol dire che questa parte ovviamente che è più delicata perché quando qui sotto troviamo il fegato è una ghiandole mi raccomando non temo a stimolare le ghiandole perché è un disastro però qua nella parte alta a destra è basso cosa vuol dire di basso? dove ti fa male la schiena? eh sì massa a destra è certo perfetto vi ricordate dopo il colore scuro sulla schiena che era sul lato destro sì era sul lato destro perfetto quello identifica appunto il diaframma più basso è tutto collegato ragazzi non è mai nulla a caso non è mai nulla a caso quindi qua adesso dobbiamo lavorarci per riportare un po' più in alto ok è tutto lì prendiamo Arietta brava ok io vado piano piano l'accompagno piano piano bravissimo già meglio bravo bravo deve essere solo un po' più dolci bravo tutto fuori quello che non ci serve bravissimo bravo bravissimo 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 ancora meglio esatto benissimo si sta lasciando andare molto bene adesso guadagneremo ancora di più tenendo giù la pressione e tu continuerai a respirare ripartiamo fare il giro stesso giro quindi partiamo da centrale poi ci spessiamo di qua prendiamo di qua ok così facciamo tutto l'emisfero perché vi ricordo che il diaframma per regolarità ovviamente si trova a quattro dita della persona l'ultima costa quattro dita ed è uno smile al contrario ok questo tragitto qua che per forza di gravità e per stress soprattutto perché è un contanziogeno si abbassa e dà fastidio si abbassa stomaco intestino ok tutto il resto andiamo poi va ora la lezione di respirazione diaframmatica perché è bravissima adesso io rimango qua e tu continui a respirare dimmi se i giramenti di testa ok ok ancora uno bravissimo bravissimo adesso mi arriva prendi aria guardate tutto sotto spettacolo respira barbara completamente tutto ancora uno bravo ti ricordo la prima volta che sono al tatto e vi fa stile dolor quindi per quello quando vi dico quando fate esercizi ma anche quando fate comunque sforzo se rispettate col diaframma vi aiuta a livello posturale ok e in più a sentire meno dolor e adesso andiamo di qua quasi adesso è stato più cauti però dobbiamo rimanere lì cercare di farlo alzare cosa che è già migliorata solo con due tacci ok rimango qua andiamo ok già perso vai cerca di recuperare un po' di fiato bravissima qui c'è dolore andiamo ancora due dai cerchiamo di guadagnare qualcosa oggi sì ancora bravissima brava bravissima wow un viaggio molte volte arrivano giramenti di testa un po' di sbagliare ok molto vero mi sono capitati prima due pazienti che appena toccato sbagliare ok ti ricordi la cervicale che sentivo con i pallini sì bene andiamo a toccarare adesso ciao e se non ci sono più adesso sì sicuro esatto esatto ma tu l'altra volta mi hai sbloccato con la parte destra io ero completamente bloccata o non erai mi ero più bloccata ok allora a livello di touch è veramente cambiato ok non sento più il fastidio il fastidio di prima non c'è più no bello bella leggera bella morbida a parte questi trapezzi strong che c'ha veramente adesso dobbiamo dare i sondri anche qua allora dove metto metto le mani qua le mani o sotto il gluteo così si rilassarsi bravissimo ok voglio fare due trigger qua perché è stratesa ok e quindi diamo un po' di beneficio andiamo a prendere fiatto sempre rispiazione diaframmatica e qua dovevo premere abbastanza forte ok perfetto respiriamo bravissima quel diaframma bravissima wow vi faccio vedere una cosa Alberto guarda quando respira quel diaframma in quadra l'addome e se guardi l'emisfero di sinistra si alza di più rispetto a quello di destra prova a prendere la prospettiva dove sono io o da lì prova a vedere se riesce a vederla questa cosa qua guarda l'embellico eh come punto di riferimento prendiamo l'embellico e con la respirazione diaframmatica guarda dove si alza di più sinistra vero? sinistra di qua questo identifica che il diaframma è più sbloccato da quell'altro rispetto dall'altro quindi tutti i conti tornano ok è incredibile questa cosa lei siccome respira veramente bene prende tanta aria se vediamo quel punto ovviamente l'ombelica al centro giusto? quindi da lì possiamo denotare sì a sinistra sì a sinistra sì a sinistra che figata questa è una tonina bellissima come va il dita? non li senti quasi più? no infatti guarda andiamo se ho spinto Alberto di vedere c'è il digitamento c'è il digitamento mio sì sì c'è 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 bene guarda adesso aspetta adesso andiamo a fare quell'esercizio che vi ho detto prima per andare a rinassare tutto il corpo ritirando sempre quel diaframma soprattutto per lei è molto importante perché lavora sulla catena trasversa dalla catena cervicale e dorsale quindi semplicemente proviali perché tu hai bisogno di questo apriamo le braccia palmi verso l'alto lascio andare tutto aspetta tra un po' decidere una cosa respira quel diaframma tanto voglio vedere questa espansione qua da qui com'è? ma non mi sembra di essere su un ettino chirurgico adesso quando arriva qualcosa no no mi sono messo una flambo ha dovuto distanza andiamo si vede si vede proprio l'espansione che è più questo lato rispetto a questa mani bene riparmi verso l'alto così bravissima allora andiamo a lavorare in questa posizione respirando quel diaframma andiamo proprio a lavorare sulla catena transversa per alleggerire tutto tutto il corpo e allentare le tensioni tra poco Barbara ci dirà che arriverà un formico rio alle mani è già arrivato bene quindi vuol dire che il risultato è molto buono ok tutte e due perfetto prima destra perfetto di norma potrebbe anche causarsi questo effetto solo da una parte no tutte e due esatto vuol dire che tu hai compromesso entrambi i lati perché di solito arrivo sulla parte un po' che è in deficit esatto quindi la parte diciamo cervicale sia d'asta che sinistra ha un deficit quindi è in sofferenza per deficit intendo un'infiammazione comunque anche a livello posturale ok perché Barbara ha una gamba un po' più corta dell'altra ha un boccino un attimino intralotato e quindi che poi Barbara finirà sulla panca perché la prossima volta che vedremo Barbara che vedremo Barbara andrà sulla panca e lì sarà un altro bellissimo viaggio bello perché faremo degli esercizi veramente specifici per la problematica e poi siccome è veramente bravo a respirare con diaframma perché in panca si respira solo esclusivamente con diaframma andremo a ottenere dei bellissimi risultati ok come stai fai? bene benissimo il formicolio? sì sì c'è c'è benissimo quello che volevo avere era il formicolio sì sì c'è molto bene adesso andiamo giù tranquilli andiamo ad allungare la cervicale ok bella morbida andiamo a fare così prendiamo aria e andiamo a creare una tensione si vede troppe le fibre guardate qua che roba che si allungano bellissima Barbara la prendiamo come anatomia così andiamo a sfidere tutti i muscoli insieme ad Alberto quindi mi hanno detto un uccellino che parti tra poco si un venerdì ti aspetteranno un dieci ore mi hanno detto di aereo dieci ore su quei cacchio di sedilini maledetto esatto quindi io a Barbara darò un protocollo apposta per partire così almeno evitiamo che arrivi là un legno bloccato io faccio è un continuo lui lo sa devo sempre avere un posto corridoio è un continuo alzarmi ti muovermi se io non riesco a star seduto dopo un'ora e buttiamo fuori all'Atalanta non sono andato sì anch'io prima volta all'Atalanta a Giorgio giusto? sì un mese dopo New York c'è la squadra di football che sono i Falcons lo so perché sono andato è diventata da pazzo è diventata da città uno spesso è stata due o tre mesi fa sì dopo forse tre o quattro anni che ero andato non c'è anche credo una cosa che è assurda la cosa che ho notato è che ogni due metri vedevo un barbone per bravo un barbone per terra questa cosa mi ha scioccato veramente tanto mi ha scioccato sporca da morire abituato a Milano pulita ma qui siamo un altro però New York veramente mi ha scioccato un barbone ogni due metri si si distendiamo le bracci dietro tutta e due indietro guarda dove riesce ad arrivare bravissima cerca di allungarti un attimino e respira sempre col diaframma bravissima le scapole sono scollate ma tra l'altro mi ha insistito è una incollatissima le scapole si ricordo infatti ho pubblicato anche il video di Barbara scollamento le scapole scollamento bello da una volta all'altra già mi sento diverso ma subito il giorno dopo ho sentito un po' di indorenzimenti subito la mattina dopo poi basta si perché devono passare esatto quelli uno o due giorni devono passare proprio per una risposta neurofisiologica si poi tieni conto che già comunque la fibrolisi il capping porta in sé un po' di dolore perché si possono rompere dei capillari e quindi anche quello può dare fastidio che poi non è il fastidio in origine ma è dettato proprio da quello è da quello c'è la pensissima nel caso dovesse venire quel tipo di dolore lì prendere magari un occhi l'antifiammatorio un fans può sempre aiutare ovviamente la mia teoria è quella di evitare qualsiasi cosa esatto perché comunque io l'altro un'altra volta ho fatto il giorno dopo che mi ricordo che era devastato ecco c'è letali diamo la scusa adesso adesso Barbara mi fa vedere come ci si alza dal lettino dal lettino esatto come al lettino non siamo a letto eh bene esatto ci stendiamo tutto benissimo sempre sul fianco ci mettiamo con i tuomani scivolamento le gambe e Barbara è qua con noi che bello vederti qua sei viva che bello non lo so sei viva adesso sei seduta sei completamente appoggiata sul sacro sì come va il sacro bene tu quando ti siedi ti arriva dolore qua no dopo un po' no 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 al sacro no al sacro no io quando sono seduto ho dolore al zona lombare al sacro con lo schiero diciamo qua so l5 benissimo dove abbiamo dato questo schiacciamento del disco quindi allora la cosa che ti consiglio io ovviamente sempre fare stretching allungare totalmente la catena posteriore non solo quel tratto ma in tutto ok non ti dico di rinforzare perché diciamo di muscoli ne ha già abbastanza ma migliorare i muscoli stabilizzatori questa cosa se uno vedete che gli addominali scolpiti questo non vuol dire che ha un core eccezionale quindi dei muscoli stabilizzatori che non che non gli permette di non avere il dolore attenzione perché avere i muscoli uno può anche non avere la tartaluga ma avere un core quindi i muscoli stabilizzatori belli forti certo ok quindi nel caso barbara darò degli esercizi di plank ok se ti piace un sacco non li fa non li fa ecco perché glielo ho detto io già sugli addominali zero lavoro esatto zero lavoro perché come ci provo e ogni tanto esatto come comincio ma crampi da contorcimento esatto contorsioni non sto dicendo scemente lui non ci credeva una volta non riuscivo neanche a sollevarlo ma vedi proprio i teatropinali che si blocca ok dal basso all'alto ok quindi dobbiamo per quello bisogna lavorare in isometria ok lavorando in isometria evitiamo proprio questo ovviamente in isometria decidiamo noi quanto tempo stare quindi non è facile di morire un minuto no si parte con qualche secondo ok quindi qua dobbiamo avere una rieducazione ok muscolare ok sempre step by step certo quindi il plank vedrai che lavorando col plank migliorerà il dolore alla schiena ok perché Barbara non ha hernie comunque che vanno a romperle scatoline comunque recano poi dolore blocchi perché Barbara non si è mai bloccata con la schiena quindi questo è un problema posturale per lavorare su questo andremo lavorare in plank quindi questo è il mio consiglio che ti fa sono contenta di verticolare il mio studio come sempre è un olore piacere mio molti la vogliono me la vado a te ma rimani qua io ormai sono fedele a Gabri perché dalla prima volta mi sono resa conto che veramente mi è necessario e quindi faccio parte un po' della tua vita sì 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 assolutamente per cui io ti ho consigliato tanti clienti lo so già ne ho scritto in tanti vi ringrazio e che mi fermano mi dicono anzi c'è un testimone ad Alberto che è bellissimo che mi racconterebbe questo aneddoto e mi fa grazie Alberto grazie a te quindi per me è un onore solo che mi mandate qua i vostri clienti è un piacere per me fare bella figura e farvi fare bella figura per me è solo un onore sapere che c'è una persona un professionista valido vicino è fondamentale noi purtroppo siamo stati anni senza sapere dove sbattere la testa adesso vi ha ricordato anche questo grazie a te grazie a te ciao ragazzi ciao a tutti